Proviamo. Scusa, dicevi? Niente! Scusa, dicevi? 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 Merda? Cos'è? Merda? come? es? Andiamo? possiamo, possiamo uscire? è facile? buona idea? non è? non è? non è? non è? non è? non è? come è? non è? faccia? è? è? in quanto? è? non è? solo voi? non è? non è? non è? è? non è? è? non è? non è? abbiamo? è? non è? 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 non è? è? non è? 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 No, no, no. stai bene credo è lì è lì dobbiamo andare avranno sentito gli spari guarda è una di loro muoviti la guardiamo dopo c'era uno studio tv sulla mappa che cazzo ne so andiamo cazzo ellie da questa parte muoversi andiamo quante persone hai visto parecchie dobbiamo andarcene da qui a sinistra di qua muoviamoci le stanze vai ti copro io non 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 No, no, no. stai bene si riconosci qualcuno di questi titti no dove cazzo vengono non lo so guarda il cortile alla caffetteria io resto qui ok via via Ellie, sopra di te! Svegliati! Acchiamelo! Incruse in zona! Ti sono da scoprire l'erba! È lì! Occhio! È lì! Sopra di te! Svegliati! È l'intrusa! Non deve scappare! Maledizione! Preso! Abbezziniamoci! D'accordo! Occhio! Voglio tutti qui giù! Ora! Grande luce degli altri! Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so. Guarda il cortile. Alla cazzo! Ci stanno attaccando! Ellie! Sopra di te! Sopra! Data! Si! Ah! Ah! Cazzo vengono! Cazzo vengono! Cercate ovunque, forza! Occhio, laggiù. Là dentro! Muoviamoci! È andato! Avanziamole! Puta stronza! Quanti cazzo sono? Te l'ho detto! Quanti c'è senti? Quanti cazzo che cazzo! Quanti cazzo sono? Quanti cazzo sono? Quanti cazzo sono? Quanti cazzo sono? Quanti cazzo non è vicino! Viene a vedere. Tanto l'unico. Dobbiamo tutti. Novità? Niente? Là giù. Ellie, sta giù. Allora? Dov'è il gruppo di Adrian? Ehi, voi due! L'ho persa. Cosa? Visto niente? No! Coprite il tetto! Io controllo qui. Sicuri non sia in strada? Abbiamo controllato? Come può essere scesa di sotto? Non lo so. È stato segnalato? Greg è andato a Capitolino. Dovrebbe rientrare con quei tizi a momenti. Dove sono andati tutti? Tutto a posto di sotto? Non c'è nessuno. Ho un cattivo presente. Forse non siamo soli. Ci sono. Là giù! uh! C'è nessuno. Blocchiamola! Sta correndo! Uh! 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 Grazie a tutti. Grazie. Mi sento. Credi che siamo tutti? Non voglio scoprirlo. Grazie. 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 Grazie.